La salvezza dell'aeroporto di Birgi è un obiettivo che tutti dobbiamo raggiungere, la Regione, lo Stato, la Unione Europea. Per questo oggi ho voluto invitare i rappresentanti del territorio, cioè i parlamentari europeo, nazionale e regionale, oltre che il Comitato, per studiare assieme nuove possibili soluzioni. Ma dobbiamo fare presto. Il male, gli errori, le omissioni sono antiche, ma oggi dobbiamo tentare di salvare il salvabile. Apriremo un tavolo col Governo nazionale, apriremo un confronto con la Unione Europea, andremo a Bruxelles e naturalmente cercheremo nello spazio di alcune settimane di poter focalizzare l'attenzione sulle 3-4 proposte possibili che stamattina sono state avanzate. Grazie a tutti.